Bella raga, sarà tutto molto blu e io sarò molto nella mia stanza, dunque allora, va faccio breve, sono qui per ricordarvi questo e sono qui anche per presentarvi questo. Grazie per la visione! Ciao! 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 insomma in breve un mio sponsorizzato è diventato sponsorizzato per il finger dalla Monster Energy niente poco di meno che la Monster Energy di conseguenza se volete conoscerlo e conoscere altri bics del settore del fingerboard dovrete venire domenica 30 ottobre all'Halloween Saved Fingerboard Contest a Voghera in Viale Repubblica 25 al centro sociale Adolescere dove ci saranno il nuovo parque Blackleaf, il parque caftoleriale e coccinelle con la nuova parte come dicevo un sacco di vips del settore del fingerboard ah sì giusto qui di seguito riporto il mio numero scritto in sovraimpressione da utilizzare solo il giorno del contest perché per il resto lo tengo spento perché serve solo per le manifestazioni questo numero per ulteriori informazioni durante questa settimana c'è il numero del negozio che lo trovate sul sito sempre scritto in sovraimpressione comunque ve lo ripeto www.cattolerialecocinelle.gimdo.com e anche l'indirizzo email lo trovate sempre sul sito niente per adesso vi saluto e vi aspetto al contest il primo che manca lo vado a prendere per i capelli sì è chiaro bella bella